Ma quante segnalazioni in vano! Quanta fatica vero! Su Facebook posti mille paroline dolci dando la colpa ai tre colpevoli di sempre. Se ne avessi conosciuto un altro, avresti incolpato pure lui. Comunque hai fatto bene a denunciare, se pensi che io abbia usato l'internet pubblico con su scritto il mio nome e cognome, caro Marco ti sbagli di grosso. Possiamo finirla quando vuoi, in ogni momento. Comincia a smetterla tu. Ti suicidi? Perché è venuta fuori la verità? L'unico modo per rimediare è tornare indietro nel tempo. A tutte quelle persone che credono alle tue bugie, basta fare un po' di ricerca su Google e scoprirete che tutto ciò che ho detto è vero. Ma non era la Chiara che vi mentiva? Ah ah ah! Comunque Tito questa volta ha fatto centro. Sono proprio io, il nomade Veneto. Anzi no la principessa. Anzi no la MS. R. Anzi siamo tutti e tre messi insieme. Anzi no siamo Chiara e Davide, senti non so chi sono denuncia tutti per sicurezza. Tuo padre lo sa quello che facevi? Le persone che ti ospitavano a casa loro lo sapevano? Non sei proprio consigliato per frequentare famiglie. Allora dato che hai denunciato tre persone parliamo di loro. Il Veneto afferma che lo avete chiamato a casa e ho infeso moglie e madre. Principessa. Avete divulgato sue registrazioni private sul web. ASMR. Dopo che è sparita date ancora a lei la colpa di tutto. Chiara. L'avete chiamato vacca, cicciona, zoccola, ladra. Davide. Gli avete detto che ha precedenti penali, che è un tossico dipendente. Bullizzate ogni giorno. Per una volta che qualcuno pensa a darvi tutto indietro vi arrabbiate. Stai continuando ad attaccare, quando dovresti assumere una posizione di difesa, e fuga. Nessuno dice che quello che facevi è sbagliato o è giusto. Ma nella tua posizione non dovresti proprio giudicare gli altri. Stai mentendo ai tuoi fans davanti alla evidenza. Almeno Chiara davanti alla evidenza ha confessato. Tu invece imprecchi denunce. Se ti uccidi a me sinceramente non interessa, la vita è tua, fanno ciò che vuoi. Vi sentite forti in gruppo? Vi date la carica a vicenda? Voglio formare pure io un gruppo di persone, e chiedo a tutte quelle persone che hanno ricevuto offese da voi, e che continuano a riceverle come le persone sempre da te elencate, di unirsi a me. Ti piacerebbe? Venire attaccato ogni giorno? O vedere YouTube pieno di queste informazioni? Comunque voglio regalare un'altra foto. Tanto dirai che è un favoloso fotomontaggio. Non esiste una giornata mondiale della stupidità, forse perché la stupidità è tutti i giorni. La stupidità è uno stato naturale, una forza potente e spontanea, mentre l'intelligenza è un'abilità che richiede un attento e costante esercizio, è pressoché impossibile far diventare intelligenti gli stupidi, ma gli intelligenti, messi a contatto con la stupidità si ritrovano a non poter esercitare la loro facoltà e finiscono per perderla, momentaneamente o per sempre. Del resto la stupidità è contagiosa, come ha dimostrato recentemente uno studio scientifico. Niente è più pericoloso di uno stupido che afferra un'idea, il che succede con una frequenza preoccupante. Se uno stupido afferra un'idea, è fatto, su quella costruirà un sistema e obbligherà gli altri a condividerlo.